allora siccome abbiamo passato l'overshoot day il 29 luglio che è il giorno in cui globalmente abbiamo consumato le risorse che in un anno la terra può rigenerare e rimangono ancora cinque mesi interi di 2021 abbiamo deciso che per esprimere la nostra protesta contro i combustibili fossili per ogni puntata di power pizza che uscirà nel 2021 rimasto bruceremo 100 chili di carbone così ce ne sarà meno disponibile non lo potranno usare per inquinare ciao lorro ciao sio ma soprattutto ciao nick punto di domanda purtroppo nick è in spedizione speciale com'è che si dice è un inviato speciale l'abbiamo inviato a far fare delle cose ma oggi abbiamo una persona fantastica che abbiamo invitato al posto suo possiamo introdurla ciao fra benvenuta su power pizza scusaci per averti invitata ciao sono fra frog era uno scherzo nick è a casa di fra frog che sta registrando dal suo microfono ciao fra frog come stai ciao volevo tantissimo fare la voce di nick però adesso questa è di nuovo la mia voce l'ho cacciato quindi grazie dell'invito di avermi invitato qua grazie a te ma soprattutto quante pizza hai mangiato negli ultimi tre anni quante puntate sono uscite di power pizza 152 facciamo anche solo quante pizza hai mangiato nell'ultima settimana preferivo quando mi chiedevate dei tre anni perché nell'ultima settimana zero e mi sono sentita un po in colpa quindi tre anni beh almeno 4.000 è un bel numero voglio dire un rapido calcolo sono tipo più di quattro pizza al giorno complimenti perché tre anni fa ne mangiavo davvero tante mentre adesso non più circa 12 al giorno per un anno aspetta aspetta massimo chiedilo a me quante pizze hai mangiato lorenzo perché mi hai chiamato lorenzo non lo so mi sono agitato comunque grazie al cielo le pizzette mi hanno ricordato che questa settimana avevo mangiato una pizza perché ero già pronto a dire non ho mangiato pizza questa settimana e invece mi hanno ricordato che la settimana scorsa quando abbiamo fatto l'aperitivo ne ho mangiato una quindi ho mangiato una pizza niente questa premessa lunghissima era per dire che ho mangiato una pizza nell'ultima settimana ma che pizza era lo sai benissimo che pizza era era una domanda retorica oh no e io non lo so quindi giusto di una delle 4.000 pizze che hai mangiato vale una qualsiasi perfetto quella con l'ananas allora perfetto qua su power pizza siamo sostenitori della pizza con l'ananas certo aspetta l'hai detto in maniera sarcastica o sei anche tu team pizza con l'ananas no io ne ho mangiata una una sola volta però secondo me era stata fatta male nel senso che io credo nella pizza con l'ananas non credo in quella che ho mangiato ok quella che ha mangiato fra frog in realtà aveva l'impasto fatto di cavolo frullato di broccolo o no la pizza di nick che non è neanche la pizza di nick è solo la pizza che nick cerca di propinare continuamente ma spero che tu sia anche team grissini fra frog perché come forse sai prima di iniziare la puntata vera e proprio leggiamo i commenti che i nostri ascoltatori ci lasciano su www.powerpizza.it e siccome siamo simpaticissimi li chiamiamo grissini perché è un podcast a tema pizza e nelle pizzerie si trovano i grissini ogni 153 puntate devo rispiegare l'intero podcast allora il primo grissino di oggi è un grissino a due voci che mi ha confuso perché anna veneziale che è la proprietaria del miglior account instagram che esista e il buon francesco guarnaccia hanno scritto avete una parola per definire l'amicizia aspetta entrambi sì hanno lasciato lo stesso commento io non capisco se è una citazione di qualcosa o un riferimento a qualcosa però non so voi fra essio avete una parola per definire l'amicizia io avevo letto questo grissino e avevo anche pensato che fortuna che questo grissino è stato sottoposto sotto ad una puntata dove io non ci sono perché è davvero difficile poi adesso appena dovuto riflettere sul fatto che è questo il momento in cui dobbiamo rispondere non lo so ma scusate cioè nel senso che la parola amicizia è la parola che definisce l'amicizia non capisco questa domanda un sinonimo dell'amicizia può essere lord nicola bernardi per quanto mi riguarda amore light sono più parole ma comunque ecco la mia risposta vi prego spiegatemi cosa cacchio volevate sapere decadimento degli atomi oggi ho deciso che leggo subito i miei due grissini così me li tolgo di torno ci scrive semplicemente l'occhi non è autoconclusivo e come sapete nelle puntate in cui non c'è nick mi piace dissare nick quindi ci tenevo a continuare con questa tradizione e invece bella underscore best nome dice petizione per rendere questa sigla finale la nuova sigla ufficiale di power pizza per tutte le puntate a seguire no purtroppo è una puntata speciale la 152 mi sono impegnato moltissimo a fare quella sigla è stato bello e divertente ma non possiamo insomma riposare sugli allori di qualcun altro e cioè della immensa carriera artistica del gabibbo è stato un omaggio il nostro è stato semplicemente un rendere omaggio l'ho appena detto sì leggo l'altro grissino l'altro grissino di sommo caio che tra l'altro non so se lo sapete ma è anche un personaggio di dragon ball che dice sono confusissimo anche da questo grissino come promemoria due punti da ascoltare dopo essere uscito da scuola come può aiutarti promemoria che hai scritto nella cosa di cui ti devi ricordare cosa è come scrivere in un foglietto ricordarsi di leggere questo foglietto cosa non ha senso però bello tutto ma visto che invitiamo delle persone belle e poi fondamentalmente gli parliamo sopra non le lasciamo parlare e parliamo solo noi fra ho due domande per te riguarda l'occhi tu hai visto l'occhi per caso no io non l'ho visto l'ho soltanto guardato con la coda dell'occhio mentre qualcun altro lo guardava dicendomi non guardarlo perché poi lo dovrai guardare ma non l'ho mai guardato ok allora la seconda domanda è tu hai per caso visto tre manifesti a ebing missouri cosa scusa scusa prego rispondi pure no aspetta ma non capisco cos'è una serie no era un film ah ok te lo consiglio perché per me è un bel film anche secondo me diciamo che diciamo che si collega alla deep lore di power pizza ma comunque è il momento di iniziare l'episodio ok con le me news io ne ho solo una non so voi se avete cose di cui volevate parlare fra le me news sono una crasi tra menu e news menu perché siamo in pizzeria e dobbiamo scegliere la pizza e quindi parliamo delle cose della settimana delle notizie che ci hanno interessato completamente a caso cioè una potrebbe essere importantissima ma non ne parliamo tu avevi delle news di cui discutere oggi dunque è molto difficile questa cosa perché in verità io mi ero preparata soltanto le mie news interne ovvero ad esempio ho trovato una serie dove ci sono dei criceti in stop motion che sono in realtà delle macchine cosa quindi non è una vera e propria news lo è assolutamente di qualcosa infatti cioè non devono essere news per il mondo devono essere news che fregano a noi ah ok e allora sì questa è una news si chiama pai pai cosa no aspetta o pui pui no pui pui scusate un attimo di momento dado interno che è subito sbagliato pui 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 molcar sì esatto e sono dei dei criceti diciamo realizzati in stop motion ma tutti gli effetti uguali a quelli reali non si distingue quasi la differenza la forma gli occhi sono la stessa cosa l'ho visto su netflix e sono degli episodi in stop motion di queste di questi criceti automobili dentro i quali sono proprio come i criceti veri hanno delle ruote dei finestrini wow ma esatto ma sto guardando gli screenshot e sembra la cosa più bella che sia mai esistita esatto e niente quindi volevo soltanto ecco era una cosa ho pensato che fosse davvero terribile non condividerla cioè averla soltanto io nel mio scenario di intrattenimento casalingo ecco volevo che più persone possibile fossero al corrente dell'esistenza di questa cosa grazie si wow hai fatto super bene a condividere questa cosa perché ignoravo completamente la sua esistenza ma tra l'altro scusa hai detto su netflix sì io l'ho trovati su netflix me li ha suggeriti non so esattamente come ha potuto arrivare al fatto che mi sarebbero piaciuti pirollo li ho amati e durano pochissimo purtroppo cioè ogni episodio in realtà reacchiude dentro di sé altri due no scusate tre episodi quindi sono episodi veramente brevi di due minuti così brevi sì è perfetto anche per lo span di attenzione che abbiamo noi tra l'altro appunto beh insomma due minuti mi devo un po' concentrare o no ormai lo standard è diventato tiktok dannazione anche per noi il massimo è 60 ah no adesso sono tre minuti tiktok ci sopravvaluta tantissimo ma la vera domanda è voi l'avete preordinato un play date no ma aspetta ci sono nuove notizie riguardo al play date o cioè quello che sappiamo è semplicemente quello che sapevamo anche prima quello che sapevamo è che avrebbero aperto i preorder a fine luglio e hanno aperto i preorder il 29 luglio alle 7 di sera ora italiana tu hai idea di cosa sia il play date fra sto googlando per per saperlo ma purtroppo non sono stata abbastanza veloce vale anche googolare in power fix l'importante poi è ostentare sicurezza e fare finta di sapere le cose esatto quindi assolutamente sì a ora ho capito no va aspetta però adesso ho capito veramente c'è quella console tipo con la manovella giusto sì sì la console manovella esatto non so perché continuiamo a tirarla fuori tra l'altro per me non è tutto quello che potevamo dire no no perché io ho una storia da raccontare cioè ho preordinato un play date ma nonostante fossi lì alle sette spaccate loro hanno detto ecco la lista di countries verso le quali spediamo nelle dieci countries c'era l'italia e ho detto yes l'italia è il mio paese l'italia è il paese che amo sostanzialmente ho provato per 20 minuti a preordinarlo e non ha funzionato perché dicevano l'italia non possiamo spedire in italia e mi è venuto da piangerissimo infatti i primi 20.000 la play date che sono gli unici che spediranno in quest'anno sostanzialmente meglio sono perso ma subito dopo probabilmente perché c'era meno richiesta per il batch del 2022 sono riuscito a preordinarlo perché dicono va bene allora l'italia esiste adesso te lo spediamo l'anno prossimo che comunque non ho capito il senso di dire a spediamo in questi dieci paesi ma poi in realtà no non è vero perché hanno avuto una richiesta oltre ogni aspettativa completamente e il loro plugin di spedire internazionale si è un po' impallato quindi adesso possiamo non parlarne più fino al giorno del 2022 in cui ti arriverà finalmente perché volevo dire una cosa che ho scoperto durante questo processo perché no perché allora lo sapete benissimo che esce un gioco la settimana del play date praticamente e ti arriva wireless e tu scopri automaticamente ma credevo che perdendomi il lancio mi sarei perso questa esperienza invece ogni play date dal giorno in cui lo accendi iniziano le 24 settimane in cui ti arriverà un gioco alla settimana e quindi l'esperienza è personalizzata è bello quindi non li avrai in contemporanea tutti gli altri li avrai in base a quando l'hai preso tu esatto probabilmente un sacco di gente me li spoilererà tutti esatto infatti stavo per dire cioè il rischio è quello fondamentalmente starò attento e cercherò di non guardarli però vabbè e cercherò di non guardare l'internet per 24 settimane esatto ci vediamo su power pizza in cui parlerò solo di fumetti che mi sono comprato negli anni scorsi che poi oltretutto adesso io questa questa console l'ho vista girare però non mi sono interessata a sufficienza sempre per il solito problema della soglia di attenzione evidentemente l'ho visto detto che carino e poi ho cambiato notizia probabilmente perché adesso sto rosicando fortissimo per non essere stata lì a combattere contro di te per avere anch'io la mia console magari avremmo avuto il doppio delle possibilità di averne una allora ti dico solo che se ne vuoi una e la preordini loro praticamente aggiusteranno la produzione e ne produrranno di più o di meno in base ai preordini quindi se ne preordino 100.000 ne fanno 100.000 altri quindi se vuoi preordinarlo lo puoi fare secondo me lo farò tipo appena finita questa puntata soltanto perché non lo voglio fare mentre sono ancora qua perché stavo già con il mouse sul tasto aggiungi al carrello a seta fra mi stai dicendo che da qui alla fine dell'episodio tu ti ricorderai di questa cosa che volevi fare io lascerò la scheda aperta del browser sperando che poi quando finisce l'episodio non penserò di fare semplicemente chiudi tutte le schede perché altrimenti rimanendo tra l'altro in tema di console vi è capitato di vedere che cos'è l'analog pocket fpga ma ovvio cioè è l'altro che sto cercando di preordinare ma perché letteralmente allora bella la console con la manovella però devo dire che questa mi ha catturato abbastanza l'attenzione ora dovrei cercare di spiegare che cos'è ma farei schifo a farlo perché tendenzialmente non so niente di specifiche tecniche e di linguaggio tecnico però fondamentalmente è un gameboy non ufficiale che legge tutta una serie di formati cioè dal gameboy color al gameboy advance a tutta una serie di altri formatili di console portatili console portatili con gli adattatori però esattamente con i relativi adattatori però sembra una roba cioè veramente a parte belle esteticamente che comunque mi interessa questa cosa e poi ci sembra fatta va bene si conferma mio smentisci questa cosa sì perché appunto essendo fatto con un fpga cosa vuol dire vuol dire che gli fpga sono dei chip interamente programmabili e possono far finta di essere l'hardware identico al gameboy vecchio praticamente esatto quindi è questo gameboy che non è un gameboy ma che puoi utilizzare per giocare le cartucce del gameboy cioè non emularci dei giochi sopra e ha uno schermo che è dieci volte la risoluzione del gameboy e quindi per ogni pixel ce ne sono dieci ed è molto bello e mi dispiace fra oggi è diventata un po' una puntata gameboyesca però a me piacciono i gameboy ciao ma io sono contentissima comunque ho finito cioè non avevo altro da dire a te piacciono i gameboy parliamo di gameboy ma da morire è soltanto che purtroppo mi sono appena resa conto che tutte queste cose non le sapevo le sto scoprendo adesso che è un momento cioè fantastico perché è come se vi stessi ascoltando da fuori e quindi scopro cose su power pizza come sempre ma allo stesso tempo non ho abbastanza tempo per approfondirle poi quanto vorrei quindi adesso lascio tutte le scade aperte ho già chiuso quella di prima wow è già successo molto prima di quanto avessimo potuto prevedere per cercare questo nuovo gameboy e tra l'altro l'unica cosa che mi sembra giusto dirvi questo analog pocket di cui vi parlavo è il prezzo che è comunque insomma altino consistente perché si esatto si parla di un prezzo base di 200 dollari però analog fa delle cose di una qualità atomica io quando ad aprile hanno fatto un altro batch di preorder per il super nt che è il loro super nintendo fpga con l'uscita hdmi io sono riuscito a recuperarmi ne uno è stato bellissimo ed è veramente un oggetto meraviglioso loro ci mettono veramente una cura incredibile l'unica cosa che vi dico sull'analog l'ultima cosa che vi dico sull'analog pocket è che l'uscita dovrebbe essere a ottobre di quest'anno e non si sa ancora quando faranno un preorder però il preordine è da domani non domani di quando state ascoltando ma domani no era il 3 agosto 2020 esatto esatto oggi è il 2021 ah dannati anni è così difficile tenere tenere conto dell'anno in cui mi trovo è vera questa cosa infatti non si sa ancora è vero è vero l'avevano spostata a maggio 2021 e poi non si è più saputo niente wow grazie se io che mi hai anche fatto scoprire in che anno mi trovo è facile se ti guardi dentro le vene vedi il potere della scienza è il 2021 comunque la mia domanda è avete delle altre menu di cui parlare perché io la puntata di oggi sarà una puntata ammenda per me io sono a posto ma prima vorrei sentire di che cosa avrebbe voglia di parlare fra oggi ah sì no giusto molto meglio allora visto che parlavamo di console e io nell'elenco di argomenti che vi ho presentato su telegram no tantissimi argomenti ma sì ma perché ho pochi minuti diciamo per presentare una serie di cose devo devo cercare di tirar fuori il meglio che ho quindi li ho messi tutti e adesso boh non lo so la cosa che più si avvicina alle console che mi viene in mente il fatto che ragazzi i miei joycon hanno iniziato a driftare tutti contemporaneamente cosa e soprattutto joycon aspetta di quanti joycon stiamo parlando ne ho quattro ok vabbè ok quelli importanti sono due no quelli del movimento ed è successo proprio in concomitanza col fatto che ho prestato la switch ad un amico dicendogli prova zelda è bellissimo breath of the wild e lui me l'ha ridato il giorno dopo dicendomi no è orribile sono salito in cima a una torre poi ha iniziato a camminare da solo sono caduto non mi piace ciao aspetta mi piace che intanto la sua conclusione sia stata non tipo c'è un problema con il controller ma il gioco fa schifo e soprattutto se io fossi stato nei tuoi panni avrei subito dubitato dell'amico in questione tipo cioè come fai a sapere che non è stata colpa sua all'inizio del driftaggio perché dunque innanzitutto ci tengo a precisare io sto raccontando una storia che non è successa ieri ma un po prima per precisare perché poi c'è stato un passaggio dopo questa cosa e io anzi gli avevo pure detto sapendo cioè io sapendo che breath of the wild è così bello gli avevo proprio detto non ti preoccupare tu cancella il mio salvataggio ti piacerà così tanto che tornerai allo stesso punto dove sono arrivata io se non persino oltre e lui me l'ha ridato con cinque minuti di gioco dentro ma poi sulla switch non è necessario cancellare i salvataggi bastava creare un utente nuovo lo so ma io questo non ci avevo pensato ragazzi no però era bellissimo in realtà cioè a livello di spirito era molto bella come cosa tranquillo riuscirai di sicuro a vissare il mio salvataggio spoiler non è successo a quanto pare esatto e questo poi mi ha spinto oltre insomma ripudiare l'amico in questione a rigiocarlo da capo rigiocare da capo proprio breath of the wild arrivando quindi alla soglia delle 270 ore ma anche a capire se potevo risolvere il drift della console ah giusto perché sei arrivato a 270 ore ma con link che cammina da solo fondamentalmente no ho comprato un altro controller perché non ne potevo più volevo volevo spararmi quindi è finita che sono riuscita ragazzi forse non dovrei fare questo annuncio pubblicamente ma ho deciso che lo farò per il bene di tutti gli amanti delle console che so che qui sono tanti a mandare in assistenza ai joy con gratuitamente certo certo perché loro non te lo dicono che in italia lo fanno cioè loro ti dicono che tipo in america lo fanno o da altre parti lo fanno però in italia non c'è non c'è scritto nulla ah ufficialmente non te lo dico aspetta ma l'hai mandato in assistenza alla nintendo tipo che ne so non so a microsoft a qualcun altro che non c'entrava assolutamente niente no alla nintendo ok fantastico allora sì sì quindi si può fare ragazzi anche se non è scritto da nessuna parte devi stare tipo in chiamata tantissimo con loro o forse magari c'è anche un modo di evitarlo non lo so io sono stata in chiamata tantissimo sì dire a richard chiama nintendo e stai lì a però una raccomandazione se prestate i vostri joy con ad un amico fa o zelda fatelo solo dopo aver risolto il drift non prima onde penalizzare i giochi sì ma tu lo sai aspetta innanzitutto te li hanno già ridati e l'hanno risolto cioè probabilmente hanno sostituito il joy con esatto si si risolto ma tu lo sai che il 14 luglio è uscito un video su vk's channel che è uno youtuber con 17 mila iscritti che si chiama come risolvere il drift permanentemente e sembra che funzioni davvero implica un pentacolo e dei sacrifici umani no è quello dove devi mettere lo spessore sì quello dello spessore esatto è quello di mettere uno spessorino di bo cartoncino cioè smontare i giochi con mettere un pezzettino di cartoncino e rimontarlo a tutto qua tu non ci avevi provato ovviamente è successo prima di questa cosa no non era uscito ancora il video quando mi è successo a questa cosa poi quando l'ho visto ho detto beh visto che comunque i joy con che mi hanno sostituito ripresenteranno questo problema al 100 per cento perché non l'hanno attualmente risolto quelli di nintendo quando si ripresenterà farò così però ecco sarebbe stato bello saperlo prima ma infatti è sempre brutta questa cosa del drift perché insomma la switch la amo così tanto e amo così tanto che il fatto che ci siano così tanti joy con colorati ma non riesco a non pensare alle persone che comunque magari hanno solo due joy con e dicono ok il drift mi impedisce di giocare alle cose mi piace che tu lo dica con questa vena di pietà mi spiace per le persone che hanno solo due joy con le persone normali esatto le persone che non hanno un problema che è il numero giusto di joy con da vere esatto io ho un problema e lo ho ammesso ok 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 almeno c'è onestà da parte tua ok mi dispiace ma sono contento che il capitalismo in parte abbia risolto la tua questione anche se ha contribuito a crearla ma soprattutto tu lo guardi star trek fra ecco anche qui ammetto questa cosa quando ieri sera avete scritto comunque o stamattina non mi ricordo avete scritto parleremo di star trek mi è scesa proprio una gocciolina di sudore proprio detto ti prego fa che non me lo chiedano lorro non sa come noi due tutte le puntate di star trek che c'è capitano korg e big boy che imbarazzo che mi provoca a fare un podcast con te fra io non conosco star trek per nulla meno male allora vai super tranquilla fra perché allora il discorso cos'è io sono abbastanza un fan con la f maiuscola di star trek ma c'è una serie comunque del trek classico perché star trek si divide sempre in trek classico in new trek che sono tutte le serie più recenti tipo discovery picard e compagnia bella e dello star trek classico ce n'è una che ho sempre snobbato perché mi ricordavo di averne viste tipo due o tre episodi quando ero un ragazzino notoriamente quando sei un ragazzino non capisci assolutamente niente almeno io non capivo assolutamente niente e avevo un ricordo pessimo di questa cosa e per tutti questi anni ho semplicemente fatto il superbo quando ne parlavo di questa cosa dicendo ah che schifo quella cosa di cui ho un ricordo vaghissimo o sai che me lo sono iniziato a riguardare e mi sta piacendo tantissimo non hai detto di cosa stai parlando ok lo stavo dicendo adesso era solo un intro lunghissima e sto parlando di star trek enterprise che è considerato il fratello stupido del trek classico ed è anche tra virgolette la serie che aveva chiuso il trek classico che era stato anche un mezzo flop a livello di pubblico e mi sta piacendo tantissimo perché che cos'è star trek enterprise e fra e sio sentitevi liberi di interrompermi in qualsiasi momento perché mi rendo conto che parlare di questa cosa è parlare di una cosa che interessa solo a me c'è il capitano creek no 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 perché è la prima serie in ordine cronologico cioè praticamente nell'universo di star trek nel 2063 c'è il primo contatto ovvero noi esseri umani scopriamo come viaggiare a velocità di curvatura arrivano i vulcaniani ci dicono ciao non siete soli nell'universo e noi diciamo ah caspita questa è più o meno la nostra reazione parole dure esatto nel 2150 tipo c'è il primo viaggio di una nave grossa con un motore a curvatura che è l'enterprise la prima enterprise la nnx 01 e appunto questo star trek enterprise sono i viaggi del capitano arcere della sua ciurma in un momento in cui però gli esseri umani sono sì cioè siamo sì nel futuro però è un futuro stravicino a noi quindi diciamo che a livello di evoluzione sociale e tutta una serie di cose sono più vicini a noi che non al futuro lontanissimo di altre serie di star trek quindi è super interessante perché hai praticamente l'universo di star trek con tutte le varie razze un universo che già comunque collegato e che interagisce e noi che fondamentalmente vediamo queste cose per la prima volta e io avevo un ricordo di questa cosa del tipo ah è troppo poco star trek perché non è lo star trek di tipo the next generation dove appunto sono tutti ah siamo molto più razionali e diplomatici perché siamo nel 2400 tipo ma è appunto una cosa più vicina a noi cioè nel senso più vicina a una nostra sensibilità e quindi doveva essere stata quella cosa che vedendolo da ragazzino mi aveva fatto dire ah che cagata non c'entra esatto non c'entra niente con star trek e invece no perché è giustificato ed è contestualizzato bene ora ho iniziato appena iniziato a vedere la prima stagione perché appunto come ti ho detto non l'ho praticamente mai vista se non degli episodi sparuti fino a dove l'ho vista adesso mi sta piacendo tantissimo e devo fare ammenda devo chiedere scusa per tutte le brutte parole che ho detto su questa serie mi sto ricredendo completamente anche se una cosa la devo specificare il fatto che sia la prima serie in ordine cronologico di star trek comunque non la consiglierei mai come prima serie da vedere proprio perché comunque è una cosa tipica all'interno di star trek cioè mi dà l'idea che sia una cosa che apprezzi molto di più proprio quando hai un metro di paragone quando hai già visto delle altre serie di star trek come me sì sì o come te sì quindi io che ho visto tutte le altre serie posso cominciare da qua adesso esatto sai che cos'è lo star trek vero e quindi tipo questa ti serve come se vuoi anche quasi decostruzione dello star trek classico fino ad aver vista io le prime dieci episodi della prima stagione mi sta veramente piacendo un sacco se poi andando avanti farà mega schifo dichiarerò questa cosa a tempo debito ma per adesso sono super colpito e sto maledendo il lorro adolescente che non aveva capito assolutamente niente ma quindi questa storia cioè interseca un po la guerra fredda temporale alla fondazione della federazione smettila di googolare le cose no perché mi stavo chiedendo se c'è travis mayweather che che è fatto da anthony montgomery io a questo punto non ti interrompo neanche più voglio vedere fino a dove riesce a arrivare vai ok ma parlando di cose molto simili che mi vengono in mente situazioni analoghe ma diverse una volta mi ricordo una persona mi disse sempre riguardo saghe del genere kojima suggerisce di giocare metal gear in un ordine molto specifico ok siamo davvero ci stiamo davvero spostando ok ok vai avanti ti ascolto in realtà stavo spostando tutto in un'altra cosa che in realtà non so però ecco era davvero successa una cosa simile ovvero che c'era kojima che aveva suggerito di giocare metal gear in un ordine molto specifico e quindi io interessandomi per la prima volta a un argomento nuovo come faccio il parallelismo anche star trek non lo conosco non conoscevo neanche metal gear ho detto ok se kojima dice che dobbiamo fare così allora facciamolo e ho giocato a davvero un episodio di metal gear che era quello che kojima appunto suggeriva che era il creatore appunto suggeriva di giocare per primo che che qual'era c'è la da dove consigliava di partire ecco ora questa è un'ottima domanda degna ospite di power pizza dai si o googlalo allora ma secondo me ordine corretto metal gear esatto di partire dai due videogiochi star trek encounters e star trek legacy ah no aspetta sono ancora sulla pagina di star trek e vabbè vai pure avanti intanto mentre io lo cerco no beh semplicemente ecco io non mi ero mai interessata metal gear ho seguito la linea guida di kojima di giocare a questo gioco che adesso io si io molto presto ci dirà e la mia la mia cosa è stata 45 minuti di filmato in cui non capivo niente però kojima aveva detto che era era quello e poi a un certo punto ho iniziato a giocare e effettivamente metal gear è un gioco stealth dove devi stare comunque attento a non farti scoprire queste cose ecco considerato che io sono un amante dei platform il mio gioco preferito proprio metal gear amato chiuso dopo 50 minuti di gioco di cui 45 di filmato ah wow quindi c'è letteralmente la tua esperienza con metal gear sono stati c'è cinque minuti di gioco fondamentalmente esatto ma ci può stare insomma se non ti piace quel tipo di gioco hai fatto bene a non perderci altro tempo comunque raga io ho provato a googolare la cosa ma c'è ho trovato solo ordine cronologico dei giochi non ho trovato ordine in cui kojima suggerisce di giocarli scusate ho fallito non lo so vabbè se lo scopro comunque ve lo scriverò in un grissino ok perfetto niente ho fatto questa cosa per spostarci da star trek a un'altra cosa ma il problema è che anche metal gear non mi è non mi è molto familiare come gioco quindi wow hai spostato l'attenzione verso un'altra cosa di cui non ti interessa assolutamente niente è stata una mossa strana è un ottimo segue però perché da una cosa che non le interessa verso una cosa che non le ha interessato comunque ok allora bello tutto di metal gear di cui tra l'altro anche a me non frega assolutamente niente però per qualche ragione ne abbiamo parlato brevemente però davvero ricordatevi le mie parole se siete degli amanti di star trek che nobit praticamente sto pensando a te in questo momento dopo esservi guardati le serie più celebrate recuperate anche enterprise non fidatevi di quelli come il me del passato che vi dicevano ah è una serie stupida no guardatela recuperatela perché merita ecco fini volevo solo dire questo quindi quello che mi stai dicendo è che tutto ciò che mi ha detto l'orro fino ad oggi è una stupidaggine sì ok 100% sì ho capito va bene l'orro parentesi volevo dirvelo dopo ma non riesco a non dirvelo io avevo messo da parte un argomentino che non c'entra niente però c'entra con metal gear a quanto pare perché avevo trovato una mod di wind waker z da wind waker che praticamente ti permette di giocare come solid snake il protagonista di metal gear visto che ci sono delle parti stealth in quel gioco è carino e simpatico sì ma sono tipo appunto solo delle parentesine stealth non è tutto stealth come funziona la cosa no semplicemente è una modifica grafica c'è sei solid snake punto cioè non è cambiato il gioco è solo una roba estetica nell'ambiente di zelda ovviamente sì sì c'è proprio nel gioco di breath of the wild sì ciao scusa di gamecube zelda il famoso zelda due punti gamecube zelda wind waker io mi sono reso conto adesso che avevo una menu sma me l'ero dimenticata però magari non l'avete visto quindi possiamo iniziare a finire subito questo argomento per caso voi avete visto il trailer di ghostbusters afterlife no no ho visto quello di ghostbusters legacy però mi spiegate che senso ha c'è un film che si chiama in originale afterlife in italia lo chiamano legacy cioè non è un titolo più comprensibile anzi mi verrebbe da dire che c'è legacy in italia magari uno se non sa l'inglese lo legge e sia ancora più criptico di afterlife ma comunque non era quello che volevo dire hanno cambiato gli effetti speciali what dal primo teaser che avevano fatto uscire tipo l'anno scorso o due anni fa quando cacchio era adesso c'è appunto il trailer esteso e ci sono un paio di scene che c'erano anche nel teaser iniziale e gli effetti speciali li hanno aggiornati e secondo me ed è questa la cosa che mi diverte secondo me l'hanno fatto per discostarsi da ghostbusters 2016 e non è supportata da niente la mia teoria però nel teaser iniziale si vedevano proprio degli effetti speciali dove che ne so le scede i fantasmi erano con quelle cose sai tipo verde molto acceso richiamava molto esteticamente ghostbusters 2016 adesso è completamente diverso cioè proprio hanno adottato un altro stile più vicino se vuoi a ghostbusters originale ma diverso appunto dal primo teaser e questa cosa mi ha fatto sorridere tra l'altro non sembra neanche male io tengo le dita incrociatissime perché veramente anche se sono un illuso ho ancora speranza che possa essere un film carino lo stavo guardando mentre lo dicevi e ne ero certo e sembra veramente stranger things quindi sembra bello letteralmente sembra stranger things sì è vero è comunque finita qua la cosa scusate ora sto zitto per il resto dell'episodio lo prometto quindi parlando di metal gear dicevamo cosa no basta metal gear scusate in realtà non ho null'altro da dire riguardo no allora io io avrei delle cose da consigliarvi oggi però voglio sapere che cosa ne pensi di inside di bob burnham perché io ho provato a non chiedertelo però ho sempre voglia di parlare di bob burnham in realtà e quindi siccome l'hai scritto nell'elenco di cose di cui avresti potuto parlare l'hai visto quindi sì 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 l'ho visto non sapevo se ne aveste già parlato in una puntata che magari non avevo sentito perché non è recentissima rispetto ad altre cose però ecco a me ha fatto davvero un effetto strano inside perché dopo averlo visto l'inizio è stata una cosa tipo wow quanto è bravo bob barnum e poi progressivamente nei giorni successivi è stato quanto è bravo bob barnum e continuavo a pensare quanto lui fosse bravo quanto io non potessi neanche lontanamente sognarmi in cento vite di essere brava un briciolo di lui quanto tutto ciò che ha detto fosse una critica al mondo in cui viviamo quanto è terribile il mondo in cui viviamo cosa possiamo fare per risolvere il problema del mondo in cui viviamo niente che anche lui può farlo per quanto sia bravo o no quindi è stato un escalation di due settimane in cui mi sono sentita davvero molto triste a causa sua ed è una cosa bella in realtà però ero davvero triste e mi ha colpito davvero tanto nel senso non so quanto tempo fa mi è mai capitato di stare due settimane triste per una cosa bella di questo tipo io sinceramente la prima impressione che ho avuto quando l'ho visto a pezzettini ho detto ah beh carino dai simpatico non ho più smesso di pensarci da quel giorno cioè non ho mai smesso ogni giorno di pensare a quello show a quanto si può fare con una persona sola a quante cose si possono dire quante cose importanti si possono dire e quante cose importanti si possono dire con della musica fighissima e sono le canzoni a memoria ma tra l'altro io sono contentissimo che abbiate tirato fuori questa cosa perché io ancora non l'ho visto e quindi cioè sono qua che pendo dalle vostre labbra però visto che l'unica volta che ne abbiamo parlato era nick che l'aveva guardato in treno in maniera super distratta ne aveva parlato in puntata e dopo era stato lui stesso a dirci regà devo riparlarne in puntata perché mi sa che non avevo capito assolutamente niente sono contento che sia arrivato il momento di rimettere mano a questa cosa sì perché secondo me il primo impatto non non arriva totalmente nel senso sì arriva nel senso che ti può piaciucchiare nel senso che te lo godi però fa effetto dopo è un po' come se appunto ci volesse del tempo per processare tutto quello che hai visto e poi ritorni magari su alcuni passaggi di alcune canzoni esatto ad esempio vabbè quella dell'internet banalmente è quella che probabilmente è stata più la più famosa magari quella che ha girata di più però ecco io al primo sguardo l'ho guardato detto ok sì carina ah che bello wow c'è un plot twist alla fine però mi sono ritrovata a riascoltarla riascoltarla analizzare il testo cercare cosa volesse dire cosa io ci avevo capito poi a un certo punto ho cercato qualcuno ha analizzato per favore tutto questo spettacolo con tutte le reference tutti i significati nascosti ok e mi sono messa a leggere tutti gli articoli perché non lo so arriva piano ecco lentamente e non ti rendi conto è una cosa che ha bisogno di un po' di tempo per essere metabolizzata diciamo come diceva una nostra amica l'altro giorno cioè per alcuni versi potrebbe volerci quasi un trigger warning prima di questo speciale comico perché cioè può essere molto forte in realtà per quello che dice anche se lo dice con il sorriso sulle labbra cioè a volte le cose più forti che dice le dice tipo mentre inquadrato per terra col disordine mentre dorme cioè boh è una cosa un'esperienza unica non ho mai visto nulla del genere e lo consiglio sempre a tutte ogni volta che incontro una persona dico ah l'hai visto boh boh non sai cos'è guardalo poi parliamone mi prego chi è lei se ne vada da casa mia per piacere però sì ok rende l'idea no è vero io comunque l'ho spammato a tutti i miei amici a chiunque in quei giorni incontrassi ah hai visto boh barnum come non sai chi è boh barnum e poi ovviamente finivamo in una casa a guardarci tutto lo spettacolo comunque parte di esso e la cosa bella è che tutte le persone anche chi ne aveva visto soltanto una piccola parte mi ha poi riscritto per dirmi aspetta ma come si chiamava che lo voglio vedere tutto quindi ha colpito secondo me davvero tanto e avrei voluto vederlo al cinema come è stato poi proiettato perché secondo me lì era proprio una roba da mettersi a piangere sinceramente ah non sapevo neanche che fosse uscito al cinema ero convinto che fosse una cosa direct to netflix per capirci è che ha fatto un super successo esatto e gli hanno detto ok portiamolo in qualche cinema negli stati uniti ovviamente ok tu fra che sei una creator comunque cioè ogni tanto ci penso no quando riuscirò magari a fare una cosa di impatto così grande perché io boh barnum dopo di questo non so se riuscirà mai a raggiungere di nuovo delle vette così alte cioè questa è veramente la cosa che ti definisce certo puoi fare un miliardo di cose nella tua vita ma se le persone dopo che sei morto diranno una cosa probabilmente sarà questa cattura così tanto lo zeitgeist in una maniera così originale che è incredibile non lo so tu ci pensi mai a dire riuscirò mai a fare qualcosa di così bello parte della mia tristezza dei giorni successivi è stata dovuta anche a questo perché comunque lui ha diciamo condivide a un background comune in un certo modo diciamo noi perché lui è partito sul web letteralmente uno youtuber esatto e quindi diciamo che poi certo ovviamente si sarà formato anche esternamente perché è bravissimo è uno stand up comedian e quindi ok avrà fatto tutta una serie di percorsi però se tu pensi al fatto che comunque siamo partiti tutti dallo stesso punto e lui probabilmente è stato capace di fare questo spettacolo anche perché è partito da youtube quindi cioè è diventato più completo magari di un semplice performer sul palco ma aveva tutta una serie di conoscenze o di interessi che gli saranno saltati fuori proprio a causa di questo background io non ho potuto fare a meno di fare dei parallelismi e mi sono sentita davvero minuscola in confronto a lui e la cosa che mi ha rincuorato è stato vedere nei commenti tanti altri creator e youtuber nei commenti del suo canale youtube dove aveva pubblicato per esempio la canzone sull'internet che dicevano ragazzi tranquilli è totalmente normale sentirsi davvero depressi dopo aver visto questa cosa pensando che non potremo mai essere bravi come lui tranquilli potremo essere bravi in qualcos'altro di diverso perché tanto il più bravo a fare questo è lui quindi pensiamo già qualcosa di diverso sì perché te la metti via più facilmente quando vedi boh non so un film disney venuto bene però è così che poi la gente finisce sul guinness world record per delle cose stupide tipo le unghie più lunghe dei piedi o roba del genere perché arriva quel momento in cui ti rendi conto che non puoi competere con certe persone quindi io inizierò a farmi crescere le unghie dei piedi io se vuoi saperlo ho un pelo sulla faccia proprio al centro di una guancia che per ora ha raggiunto tipo sei centimetri sei a cavallo non lo toccare non lo toccare il tuo passaporto verso la gloria eterna quindi per ora questa è la mia arma contro bob arna ma infatti secondo me ce la si può mettere via più facilmente quando pensi a un film disney che sono magari centinaia di persone di talento che si sono messe tutte insieme certo è difficile lavorare tutti insieme però quando vedi una persona da sola che fa sta roba dici a ti odio cosa cosa vabbè e oltre a ti voglio bene grazie di averlo condiviso con noi while being paid and being at the center of attention comunque è vero no comunque davvero hai molto ragione nel senso non avevo analizzato questa cosa del perché mi ha fatto così effetto perché è da solo perché in effetti è vero vediamo tantissime cose che sono straordinarie che non saremo mai in grado probabilmente di fare ma sappiamo anche che nessuno l'ha fatti da soli quelle cose e invece in questo caso sì e questa cosa ha contribuito a rendermi anche molto triste però è una tristezza bella capito è una tristezza di orgoglio perché mi ha reso davvero felice guardare il suo lavoro guardare lo sviluppo della serie poi scusa no della serie dello speciale ecco non lo so bo burnham cioè mi ha dato tanto però mi ha reso triste ecco stessa cosa stessa cosa non lo so sono le cose migliori sempre quelle che ti fanno provare tutte le emozioni contemporaneamente come Hamilton sì sì proprio come Hamilton comunque esatto cioè nel senso credo che sia la prova proprio della qualità cioè se non ti facesse provare niente che siano sentimenti positivi o negativi cioè sarebbe quella la prova del fallimento di qualcosa il fatto che ti faccia stare male cioè non credo che possa essere preso se non come cosa positiva onestamente no ma infatti io reputo una cosa di successo quando ti fa provare qualcosa cioè a prescindere da cosa ti faccia provare sì e no capisco il discorso però sì le cose peggiore sono le cose che ti lasciano indifferente esatto che dici ok ho perso del tempo era una cosa fine esatto ed è quello che più o meno provo con tantissime cose ad esempio vabbè sono generi che non mi piacciono ma tipo spesso coi supereroi per farti un esempio no eh sì madonna no 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 guarda grazie per averlo detta tu così non devo fare io lorro come al solito ma 100% sono d'accordo ma sono d'accordissimo anch'io cioè per carità non mi sono visto la maggior parte dei film di supereroi ma anche perché ma anche perché mi interessava poco proprio per questo perché mi raccontano una storia che per quanto non la conosca mi sembra che possa partire da un canovaccio abbastanza semplice mentre magari tra i manifesti e bimbi suri non ho idea di cosa sia mi racconta una storia mi fa provare delle emozioni è bellissimo niente l'ultima cosa che volevo dire appunto era finire concludere il discorso che facevo dicendo se mi fa provare un'emozione che è quella che i creator volevano farmi provare secondo me è di successo è difficile avere a che fare con gente così brava perché ti fa dire ok vado avanti provo anch'io a fare delle cose bellissime o ed è per questo che nella vita dovete scegliervi degli obiettivi raggiungibili tipo farvi crescere le unghie dei piedi tantissimo esatto prego non serve ringraziarmi per i miei consigli di vita però da una parte è anche una cosa bella perché tanto dici guarda il podio è già preso no quindi qualsiasi cosa potrò fare io non sarà mai così bella quindi non pensarci troppo te la metti via esatto non pensarci troppo fai quello che ti viene nel senso tanto alla fine ormai lassù in cima non ci arriverai no a meno che qualcuno non decida di condividere con te l'oro olimpico ho seguito le olimpiadi e una persona nell'atletica leggera ha condiviso l'oro è una cosa che è successa scusa è una cosa che è successa davvero perché io non sto seguendo è successo ok scusatemi non so assolutamente i dettagli però la questione è che per qualche motivo due persone che saltavano in alto hanno deciso ok non saltiamo più e tutti e due vinciamo e gli hanno detto ok è tutto bellissimo ma non so perché assolutamente ma quindi questa cosa l'hai tirata fuori solo per far vedere quanto siamo sul pezzo sì anche se nessuno si aspetta da noi che siamo cioè che cosa certo assolutamente inoltre l'italia è veloce a correre ok benissimo oh no questa era l'unica cosa che sapevo veramente adesso non sono più fiera di saperlo grazie l'oro assolutamente cosa cosa ho fatto cosa tu sai le olimpiadi no in realtà no anch'io sapevo questa cosa del dell'oro condiviso e infatti mi ha molto confuso perché all'inizio ho visto questo tipo esultare fortissimo e non dicevo vabbè ma ma ha sbagliato gli hanno dato l'oro dopo dopo che ha sbagliato forse si è aggiornato il regolamento e non lo sapevo e poi dopo ho letto questa cosa della condivisione molto bella molto sportiva basta questo è tutto ciò che so non abbiamo nulla da dire sulle olimpiadi ma evviva lo sport in ogni caso tutti gli sport che non sono il calcio maschile anche il calcio maschile è bello via via sono tutti belli ok grazie sì allora oggi avevo un documentario da consigliarvi ma ve lo consiglio la prossima volta e nell'after show vi consiglio una cosa completamente diversa viva le puntate in cui iniziamo delle discussioni su bobo ernam e sul creare le cose e grazie fra di essere stata qua con noi oggi ma parlando di metal gear questa cosa non finirà mai ma soprattutto ciao fra cosa non sta andando da nessuna parte dall'azione l'episodio non è finito e c'è ancora un after show in coda che dobbiamo ancora registrare sì sì ma prima di arrivare all'after show c'è una cosa da fare ringraziare tutte le persone che ogni mese ci sostengono su dateci dei soldi punto com e anche le persone che non ci sostengono su non dateci dei soldi punto com e anche tutte le persone che non vanno mai su megatrufa punto com sito non aggiornato da vari mesi o anche semplicemente le persone che ci ascoltano ogni settimana su www.powerpizza.it grazie per sprecare un'ora del vostro tempo a settimana o più ore per ascoltarci ma anche questa settimana purtroppo senza musichetta perché si ho marotto le scatole ha detto guarda con la musichetta migliore ok non mi è piaciuta tanto la musichetta dell'ascensore beh chi se ne frega chi è che sceglie le musichette in maniera generica io e quindi ne metterò dentro un'ancora peggiore questa volta e nel frattempo grazie a gabriele the king of cats hits and the discord lurker kitsch la voti piccola di padova sarah oswin la gabib nardatz non dire h se non ce l'hai nella si non dire h se non ce l'hai nella sacca adesso finalmente ha un senso questa cosa adesso ho capito ah credevo che lo stessi facendo apposta sei stupido wow once upon a sam now a snapping turtle cosa non lo so ma grazie anche a nuova canzone paolo lobos audisio il postino astrofisico odiato dai cani ciao amici è bello essere qui punto se è un odiato dai cani deve essere assolutamente un vero postino e grazie a tempo torniamo alle vecchie abitudini torniamo alle vecchie abitudini ovviamente l'ha scritto nel nome infatti l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata perché tutto ciò che scrivete lo dobbiamo dire thomas franco grazie grazie thomas franco e grazie psycholite grazie 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 voi power pizzette ci potete ascoltare tra poco anche nell'after show e per tutte le altre voi persone belle ci sentiamo settimana prossima sì aspetta un attimo perché volevo dire fra grazie di essere stata qui io cercavo prima di introdurre il fatto che se la gente magari malauguratamente non ti conoscesse bene e volesse recuperare tutte le tue cose dell'internet del cartaceo di tutto quanto volesse comprare una maglietta con scritto fra frog punto esclamativo sopra cosa possono fare per cercarti sull'internet possono cercare la stessa parola fra frog con il punto esclamativo due f in mezzo e potrebbero uscire dei risultati su un sito chiamato google a quel punto so che sarete disorientati cliccate lì a caso qualcosa succederà cliccare a caso è sempre la strategia migliore in qualsiasi situazione mia madre lo fa sempre il computer pieno di virus pieno di virus o pieno di felicità era una domanda retorica non serve rispondere perché la risposta era felicità lo sapevamo esatto esatto quindi salutiamo la mamma di fra frog e anche tutti voi grazie pizza e chiudo ciao ciao pizza chiudo a power pizza it's a pizza with power actually not a dish but a part we're home s i o l double r o and i cola tasty lor likes tmg thank you strange in my league see what that comes the king of the dog the show is over now visit our website www.unpodcastveramentebellissimo guarda ve lo consiglio proprio .com iscriviti al canale